Buonasera, mi chiamo Paolo Villa e sono docenti di disegno e storia dell'arte in scuole superiori da un bel po' di tempo e da un bel po' mi sto anche domandando ma se c'è tutta questa occupazione del suolo e se l'articolo 9 della Costituzione italiana prevede la salvaguardia del paesaggio e di queste cose se ne dovrebbero occupare le soprintendenze, cosa hanno fatto finora? Cioè io veramente, hanno dei poteri veramente eccezionali, quello che decide la soprintendenza è legge perché non operano? Cosa hanno fatto fino adesso? A me viene veramente il dubbio che ci sia qualcosa anche là è possibile che nessun soprintendente sia stato coinvolto fino adesso? perché io incomincio ad avere dei dubbi anche coloro che dovrebbero occuparsi della tutela del paesaggio oltre che dei beni culturali. Buonasera. Grazie.